allora buongiorno e buon rientro in aula oggi proviamo a fare insieme un piccolo esercizio sulla parte di variabili di aritmetica che abbiamo visto insieme lunedì e poi inizieremo a vedere anche i tipi di dato di tipo stringa tra la fine di questa ora e l'ora successiva ok allora partiamo da l'esercizio che è proposto sulle slide non andiamo a vedere come viene risolto quali sono i passaggi sulle slide ma proviamo a farcelo per conto nostro allora il testo di questo semplice esercizio è scritto qua bisogna posizionare lungo il muro una fila di piastrelle nere e bianche per ragioni estetiche l'architetto ha specificato che la prima e l'ultima piastrella devono essere nere ok il vostro compito è calcolare il numero di piastrelle necessarie quante bianche quante nere e nel caso in cui il numero di piastrelle non sia esattamente un sottomultipro della larghezza del muro il vuoto a ciascuna delle due estremità della della riga della parete quindi questo vuoto a sinistra questo vuoto a destra facendo in modo che questi due vuoti siano uguali ok quindi questo problema molto semplice che probabilmente a occhio sapremmo risolvere c'è un metro di un muro di 1 50 ci sono piastrelle da 25 da 20 centimetri come le metti se le pastelle fossero da 23 centimetri cambia qualcosa non cambia qualcosa ci stanno non ci stanno eccetera eccetera ok noi quindi è un problema che è così intuitivamente siamo in grado di trattare cerchiamo però di costruire un metodo che lo risolva nel caso generale ok quindi analizziamolo prima dal punto di vista del metodo risolutivo e poi passeremo a scrivere il codice ok per abitudine mia per comodità mia inizio già a scrivere se vogliamo non delle istruzioni python ma le mie note i miei ragionamenti direttamente dentro il file dentro cui farò una soluzione solo perché così abbiamo un file unico in cui guardiamo tutti quindi cerchiamo di farci un po più di spazio qui ho ricopiato il testo ma per ora è solamente vedetelo solo con un file di lavoro non scrivo la lavagna perché scrivo malissimo e anche perché poi non rimarrebbe registrato scrivo qua dentro ok allora il problema qual è togliamo questa print che non c'entra niente apriamo un grosso spazio di commenti che quindi di fatto ci possiamo scrivere liberamente dentro senza impattare sul programma questo è il mio spazio il mio blog note scrivessi solo per me no anche per voi veramente prenderai appunti in un pezzo di carta ragionamento ragioniamo sul problema qui noi abbiamo un muro determinato delimitato da due pareti dopodiché dobbiamo mettere una serie di fiastrelle di colore alternato all'interno di queste due pareti rispettando due vincoli che ci hanno dato se non sbaglio no? beh tre vincoli un vincolo è che bianco e nero devono essere alternati l'altro vincolo è che la prima e l'ultima deve essere nera e il terzo vincolo è che gli spazi eventualmente avanzati siano simmetrici quindi se vogliamo formalizzare un po' meglio possiamo dire quali sono i dati di partenza quali sono i vincoli del problema e poi come ultima analisi quali sono i risultati attesi cioè da dove parto dove devo arrivare e che vincoli ho per strada poi mi chiedo come faccio ad arrivarci ma se non so qual è la destinazione non so quali sono i vincoli è inutile che cominci a pensare su quale formula usare allora i dati di partenza in questo caso sono semplici immagino che sia solamente la lunghezza del muro e il lato della piastrella sono piastrelle non lo dice ma assumiamo che siano quadrate cioè che non possiamo giocare sull'orientamento delle piastrelle quindi ipotesi quadrate non è scritto lo aggiungiamo noi perché insomma lo specifichiamo quindi i vincoli del problema quali sono? che prima e ultima piastrella nera ah scusate poi i dati di partenza l'altro dato di partenza è che due tipi di piastrella bianco e nero no? è facile dimenticarsi no? dei dati o delle informazioni perché le diamo per scontate dopo un po' però facciamo uno sforzo aggiuntivo per identificare me ne sono accorto quando ho scritto n dicendo ma n che cos'è? l'ho detto che c'è un bianco e c'è un nero no non l'ho ancora detto allora lo vado ad aggiungere prima e l'ultima piastrella sono nera e poi piastrelle bianca e nera sempre alternate l'altro vincolo che è lo spazio rimanente deve essere maggiore o uguale a zero cioè posso andare ad avere uno spazio rimanente negativo se maggiore di zero distribuito ugualmente sui due lati se non c'è spazio rimanente cioè la somma delle piastrelle è esattamente uguale al muro è inutile che mi ponga il problema se invece c'è spazio rimanente devo dire come come lo divido e che cosa mi aspetto che il mio programmino faccia? che calcoli due numeri anzi tre numeri numero di piastrelle bianche numero di piastrelle nere dimenticato qui viene una pastella prima di pranzo piastrella e spazio a lato spazio residuo a lato allora questo qua specifichiamo meglio da ciascun lato cioè io qua il dato che ti do sono due centimetri vuol dire due centimetri a destra due centimetri a sinistra diverso sarebbe equivalente potrei chiedere dammi lo spazio totale che poi me lo divido io però specifichiamo che cos'è che stiamo chiedendo se se sto pensando a due centimetri di qua a due centimetri di là ti dico due non ti dico quattro che sarebbe la totale quindi qua c'è il sido lo scrivo meglio in italiano da ciascun lato ok allora questo è il problema come lo risolviamo cominciamo a ragionare su un pochino di formule alla fine l'operazione che abbiamo tutti in mente è la lunghezza del muro diviso il lato della piastrella poi bisogna fare attenzione con gli arrotondamenti con i vincoli aggiuntivi eccetera allora per poter scrivere cosa vogliamo fare diamo dei nomi alle quantità ad esempio la lunghezza del muro chiamiamola l muro lung muro il lato della piastrella e dai il lato della piastrella lo posso chiamare lato tanto ci sono le piastrelle qua quindi in qualche modo abbiamo tutti in mente che il numero di piastrelle sarà qualcosa che deriva dalla lunghezza del muro diviso il lato della piastrella o perlomeno questo è un punto di partenza poi sappiamo che non può essere esattamente così perché questa divisione qua in generale mi dà un numero frazionario no? si ho il muro da 90 le piastrelle da 20 faccio 90 diviso 20 fa 4,5 ne ho 4 o 5 poi in realtà a me non serve sapere non mi hanno chiesto quante piastrelle devo mettere devo dire quante bianche e quante nere però sarà un numero di questo genere facciamo pure un esempio esempio 100 tirate 90 muro diviso 20 quindi se abbiamo il piastrelle da 20 e dobbiamo riempire un muro da 90 la divisione così grezza mi farebbe 4,5 se non mi sbaglio no? 4,5 le piastrelle non le posso mettere allora magari qualcuno può dire beh ne metto 4 posso metterne 4? no perché se ne metto 4 non riesco a rispettare questi due vincoli che avevo perché se devo partire col nero nero bianco nero bianco ho finito con un bianco se ne devo mettere 4 qui non va bene no? ne metto solo 3 nero bianco nero e resta uno spazio esagerato vuoto ai lati pazienza è quello che mi hanno chiesto di fare devo farlo così quindi da questa formula qui stiamo facendo il brainstorming ragionando sul problema per trovare poi una formula risolutiva da questa divisione abbiamo capito due cose uno che a me interessa sempre solo il numero intero di piastrelle ma poi se questo numero intero venisse fuori pari non mi va bene lo devo prendere dispari quindi dovrò prendere il numero dispari più grande che sia minore della divisione di questo rapporto che è un modo un modo per dirlo detto così non è tanto facile da calcolare perché questa è una definizione che matematicamente è fighissima dopodiché dici sì ma quanto fa? è il numero di dispari più grande minore di definito perfettamente ma io devo sapere a calcolare non solo definire poi uscire fa finito quindi dobbiamo passare a metodo operativo un po' comodo proviamo a scriverlo però mi serve in generale quando scrivo in generale corre sempre un brivido su per la schiena che mi dice ma hai veramente pensato a tutto? vabbè in generale il numero di piastrelle devo calcolare devo trovare abbiamo detto il numero dispari più grande che sia minore o uguale a lunghezza del muro diviso il lato dicevo abbiamo pensato tutti i casi possibili vabbè abbiamo detto che se il muro fosse da 100 100 diviso 20 fa 5 va bene 5 piastrelle nero bianco nero bianco con 0 spazio ai lati se 110 diviso 20 fa sempre 5 virgola qualcosa quanto fa 5 virgola 5 e noi prendiamo comunque 5 piastrelle che è il numero dispari quindi nel primo caso quando veniva 4 non ci andava bene dobbiamo prendere il dispari precedente nell'altro caso in cui la divisione viene già la parte intera della divisione viene già dispari mi va bene quello quindi anche avessi un muro di 2000 cm o 2500 cm con il piastrelle da 20 insomma viene in questo caso 2000 diviso 20 ho messo un numero a caso viene 100 e quindi il dispari inferiore sarà 99 questa definizione che ho dato torna sempre tranne poi i muri corti ho allargato il muro mi andava bene proviamo a stringerlo 50 diviso 20 50 diviso 20 fa 2,5 quindi 2 quindi 1 giusto? se ho un muro da 50 applicando questa regola mi dice che il numero di piastrelle che ci devo mettere è 1 una nera basta ok? ci sta ci sta anche se fosse il muro da 40 no? uguale 20 la stessa cosa 2,5 fa 2 ne metto una c'è c'è 2,5 1,0 e tali stringiamo 30 diviso 20 fa 1,5 la parte intera è 1 va bene va bene dimmi ma non era un vincolo che richiedeva che le piastrelle fosse ralternate? sì ma se è una sola sarà nera in questo caso qua quando il muro è troppo piccolo ad un certo punto è una piastrella sola nera da sola poverina sì? non dovremmo riferire un vincolo per dire che il livello della piastrella deve essere minore è quello che sto a cui sto arrivando no? se io avessi 20 cosa fa la revisione? 20,10 fa 2 20,20 non ho cambiato non volevo chiamare la piastrella fa 2 1 e quindi va bene c'è un muro da 20 un po' stretto un po' scomodo questa abitazione vabbè da 20 ci sta una piastella da 20 giusta nera ovviamente e di meno? e allora ricordiamoci che noi siamo davanti alla macchina se alla macchina abbiamo insegnato la regola di qui sopra questa la applica quindi voi mi dite no ma non si può perché non si può ha chiesto alla macchina di trovare il numero dispari più grande che sia minore o uguale a questo rapporto questo rapporto va 0,5 e quindi il numero dispari più grande sarà meno 1 che chiaramente non è accettabile ok? quindi noi quando ho detto in generale ho mentito non è che ho mentito non ci ho pensato ancora bene allora è vero in generale se la lunghezza del muro è maggiore o uguale al lato allora devo trovare sta roba qua no? che è quello che diceva lui se invece la lunghezza del muro non fosse minore al lato il problema non si può risolvere se invece la lunghezza del muro è minore del lato non esiste soluzione non è un vincolo del problema no? cioè il vincolo del problema è una limitazione o una regola che mi viene data nel tipo di soluzione che so trovare che ti so trovare no? quindi non è che ti dicono io lo devo trovare una soluzione che rispetti questa regola qua però questa è sulla lunghezza del muro non è diciamo così una caratteristica che la soluzione deve avere ma è a monte una condizione finché questa esista quindi è un controllo di coerenza dei dati di ingresso cioè di fronte a questi dati che ti ho dato puoi trovare una soluzione? no o sì? no? però questo fa parte già dell'analisi diciamo che il programma deve fare dei dati che hai ricevuto poi se la soluzione è possibile la devo trovare rispettando certe regole quindi il programma dovrà anche accorgersi se è in questo caso strano poi noi abbiamo fatto un po' di prove con dei numeri interi volendo possiamo ragionare se la lunghezza del muro fosse frazionaria le piastrelle se avessimo muro di 17,99 le piastrelle di 3,12 funziona questo nostro ragionamento? io credo abbastanza di sì quindi noi stiamo combinando che cosa? stiamo combinando un ragionamento astratto stiamo cercando la regola generale con degli esempi concreti che ci servono reciprocamente l'esempio concreto ci serve a raffinare a trovare i limiti del ragionamento astratto oppure confermare che funzioni e però il ragionamento astratto ci servirà poi per dare la soluzione generale del problema a questo punto siamo secondo me pronti per poter trovare poi il metodo operativo per calcolare questa cosa perché questo non è un metodo operativo devo trovare il numero ho capito devo trovare trovo allora può essere comodo qualcuno di voi può trovare comodo partire da questa divisione e quindi calcoliamo questo ne facciamo la parte intera vediamo se è dispari nel caso sottraiamo uno cioè se vediamo se è pari nel caso sottraiamo uno lo scrivo a parole possibile strategia calcola com'era questo calcola la parte intera di numpiastrelle se è pari cosa la parte intera è sottinteso decrementa la di uno se viene meno uno errore cioè errore cosa vuol dire non è un errore mio i dati non sono validi altrimenti se non viene meno uno quindi viene un numero dispari positivo allora quello è il numero totale di piastrelle da cui però non è questo il risultato che devo dare se quello è il numero totale di piastrelle devo dirti quante ne voglio bianche e quante ne voglio nere dimmi solo un lato solo un lato allora sapendo che io ho qui avrò quello è un numero dispari positivo che è il numero totale di piastrelle 19 quante bianche e quante nere se quello vale 19 allora se questo è il numero bianche è uguale nere è uguale numero diviso 2 e nere io farei così cioè il numero bianche è un numero dispari quindi la divisione per 2 viene frazionaria se uso la divisione intera sto prendendo già la parte intera del numero e mi da le bianche che sono una in meno e invece la divisione diciamo così l'approssimazione per eccesso della divisione per 2 mi darebbe le nere ma se io sono le bianche le nere sono sempre una in più dimmi ok allora ripeto perché non tutti hanno sentito lui dice questo va bene questo controllo qua del meno 1 va bene se la lunghezza del muro e il lato sono entrambi i numeri positivi che abbiamo tutti mentalmente dato per scontato che fosse così eh ma non è detto quello è il numero quindi se qualcuno particolarmente amico arriva sul mio programma mi dice lunghezza del muro meno 8 metri meno 800 questo sballa clamorosamente ok quindi giustamente ci sono due modi di agire uno è quello di verificare uno è quello che ha detto lui quello giusto è quello di verificare che lunghezza del muro sia maggiore di 0 maggiore estrettamente e lato e lato della piastrella sia maggiore estrettamente di 0 lo correggo perché lui aveva proposto una soluzione generalmente diversa no che dicevano no ma io non controllo solo il meno 1 dico se è minore di 0 perché giustamente lui ha pensato se uno mi mette un muro da meno 2 metri diviso 20 cm viene un numero negativo quando prendo viene ancora più negativo quindi viene comunque un numero negativo dispari però andando ancora oltre io ho pensato se il muro è da meno 8 metri ma la piastrella è da meno 30 cm che è assurdo ma la divisione mi viene positiva quindi avrei due errori dei dati completamente sballati che casualmente poi nei calcoli sembra che diano un valore corretto quindi è meglio intercettarli prima che non sulla base di un risultato che può essere sporcato da dati errati dimmi se guardate la volta scorsa abbiamo fatto vedere la tabellina degli operatori aritmetici lo slash è la divisione reale e lo doppio slash è la divisione intera quindi mi da usare la sintassi python sì prego questo è un modo ok ah e poi non abbiamo ancora detto qual è lo spazio che deve rimanere ai lati spazio questo è facile perché sarà il dato del muro meno la lunghezza si chiamava lunghezza del muro meno il numero totale di piastrelle cioè lo spazio occupato delle piastrelle che è n più b nere più bianche per il lato delle piastrelle il tutto diviso 2 questa volta è la divisione reale gli voglio i decimali perché devo avere la misura esatta no? credo che questa formuletta qua non dia fastidio a nessuno sappiamo che la sottrazione per come abbiamo calcolato n e b quella sottrazione dà sempre valore positivo al peggio nullo e allora lo spazio fa 0 e va bene dimmi ah è uguale lui dice anziché nero più bianco mettiamo numero piastrelle si si è la stessa cosa semplicemente non l'ho fatto perché io quando avevo scritto numero piastrelle sono rimasto alla riga 45 che era ancora un numero che è la prima divisione non ho dato dei nomi alle variabili intermedie che stavo calcolando lo chiamate quello che non è un nome vero e proprio quindi avrei potuto mettere quello ma non è ancora molto ben formalizzato sono più passaggi logici questo è un modo possibile allora questo mezzo qua va benissimo sono 4 istruzioni le possiamo scrivere ma non le conosciamo ancora nel senso che dobbiamo aspettare la settimana prossima per capire come si fa in python a dire se è una cosa oppure un'altra ok ci manca ancora questa capacità quindi per il momento degli algoritmi che abbiano al loro interno una biforcazione come abbiamo visto nei diagrammi di flusso a seconda di ciò che succede segui strade diverse non sappiamo ancora codificare non è che ci voglia tanto 3 minuti di spiegazione però per il momento sappiamo che non lo possiamo fare allora tanto anche per giocarci proviamo una strategia alternativa senza il se chiaramente che se non posso usare il se questo se l'altro non posso fare il controllo di validità sui dati perché quello lì però facciamo finta che assumendo quindi che i dati siano corretti fidandomi che mi abbiano dato dei dati corretti perché se non ho l'istruzione che mi permette di verificare se sono corretti o no non posso fare altro che buttarmi senza paracadute allora un modo alternativo di calcolare lo stesso risultato è quello di dire guarda noi abbiamo ragionato su nero bianco nero bianco nero però questa stessa cosa si può vedere così nero bianco nero bianco nero bianco nero quante ne ho messe? tre così cioè per come devo fare questo muro ci sarà sempre una pastrella nera e poi se ce ne stanno delle altre vanno sempre a coppia una bianca più una nera una bianca più una nera allora questo mi suggerisce un altro modo di fare i calcoli più diretto prendo la lunghezza del muro togliamo una nera che c'è di sicuro e vediamo quante coppie di bianco nero ci sono ancora c'è il numero di coppie di bianco nero che devo aggiungere alla piastrella nera che ci sarà sempre lo tengo prendendo il muro che è gli tolgo una piastrella nera quella c'è quindi quello spazio è già occupato e questo tolto questo vedo quante coppie ci stanno quindi lo divido divisione intera perché chiaramente non mi serve un tre quarti di coppia o la coppia ci sta tutta o non la metto per la lunghezza della coppia di piastrelle che è due volte il lato giusto? quindi a questo punto il numero di piastrelle bianche è quello delle coppie bianco nero perché in ogni coppia ce n'è una e il numero di piastrelle nere è il numero delle coppie più uno quella che avevo messo da parte e avevo scorporato nel calcolo dovremmo dovremmo in tutti i casi possibili in cui i dati di ingresso siano validi arrivare allo stesso risultato poi basterà fare qualche verifica vediamo che se davvero negli esempi che abbiamo fatto prima ripetendo i calcoli usando quest'altra formula arriviamo davvero allo stesso risultato insomma mi sento di affermarlo quindi sono due modi abbastanza diversi cioè data la stupidità dell'esercizio trovare già due modi diversi di trovare lo stesso problema con approcci equivalenti cioè in entrambi i casi partendo dagli stessi dati mi dando gli stessi risultati soddisfacendo gli stessi vincoli sono equivalenti punto qual è meglio? beh dal punto di vista della risoluzione del problema nessuno di due è meglio dell'altro sono equivalenti risolvono il problema sì nel modo giusto sì basta poi per poter dire se uno è meglio dell'altro devi dirmi che cosa intendi con meglio da che punto di vista secondo me il primo è più leggibile più intuitivo un po' più lungo c'è qualche istruzione in più il secondo è più compatto in un'istruzione ho fatto il calcolo che mi serviva un po' più criptico se uno legge questa cosa qua immaginate che uno entri dalla porta legge questo dice aspetta un attimo cosa sta succedendo mentre se leggi sopra fare divisione prendi un numero intero controlla se pari è quello che faremmo a mano probabilmente a mente o a mano però alla fine se vogliamo il confronto lo fai su altri fattori che non sia la qualità del risultato lo fai sulla leggibilità sulla lunghezza del codice sull'efficienza per i problemi che facciamo noi non ci poniamo problemi di efficienza sullo spazio occupato insomma io credo che tra tutti questi criteri aggiuntivi per potermi orientare scelgo una soluzione piuttosto che l'altra quando risolvo il problema io mi do due criteri sempre non sono oggettivi non sono formalizzati non sono regole però il primo criterio è scelgo la strada in cui sono sicuro di arrivare in fondo cioè vedo una possibile soluzione una possibile strategia di soluzione la capisco ci credo vado avanti per quella piuttosto che prendo una strada che mi è più oscura più complicata perché poi alla fine devo completare l'esercizio poi magari non lo faccio nel modo più elegante possibile ma almeno il modo in cui io vedo il problema e io so di saperlo risolvere questo è il primo criterio non andate a cercare cose stravaganti non andate a cercare le cose che fa qualcun altro la strada che dovete prendere è la strada a cui il vostro ragionamento vi sta portando il secondo criterio è la chiarezza io preferisco di gran lunga un codice che sia facile da leggere che si capisca cosa stai facendo piuttosto che una cosa iper intelligente complicatissima che poi magari nasconde dei bacchi che sono molto più difficili da trovare perché non riesci a capire tutti i micropassaggi però come vi dicevo sono preferenze personali ciascuno di voi può avere la propria chiaro che così incidentalmente prendendo in mano i vostri elaborati dell'esame se avete una cosa che è facile da leggere si capisce il ragionamento siete tutti più felici al netto del fatto che se funziona funziona e quindi va bene e quindi ti ho al massimo dei punti non c'è problema ok finita parentere ho visto che c'erano delle mani ma poi adesso non ci sono più quindi forse no no ok passiamo all'ultimo passo quindi questo a questo punto si tratta di convertire in codice python questo programmino allora noi per ora sappiamo partire dai dati di partenza quindi torniamola su lunghezza del muro lato della piastrella quindi diciamo che no quindi vedete che sono uscito dal commento e quindi qui sto scrivendo codice python non è da questa riga in avanti fa parte del programma lunghezza muro uguale abbiamo detto 90 che è il nostro primo esempio lato della piastrella uguale 20 poi cosa fa questo programma calcola il numero di coppie con quella formula di sopra che avevo già scritto per lungimiranza con la sintassi python calcolo a questo punto B uguale vabbè potrei anche non farlo coppie e N uguale coppie più 1 e lo spazio è uguale vado a prendermi questa formuletta qua che avevamo scritto prima che usa B e N e quindi indipendente da quali sono i passaggi intermedi che ho usato per calcolare B e N e quindi dirò su un muro di lunghezza lunghezza del muro con piastrelle di lato lato cosa sto facendo? sto facendo un'istruzione print che mi faccia vedere stampi una frase inframmezzata da dei valori quindi ho dei pezzi di frase che metto tra virgolette delle stringhe da stampare tra le quali e poi ho dei nomi di variabili di cui voglio stampare il valore numerico che assume questa variabile e quindi deve essere fuori dalle virgolette altrimenti se fosse dentro le virgolette stamperebbe l'un muro poi troveremo modi più comodi di fare sta roba e quindi ho in questa print sto stampando quattro cose un messaggio un testo virgola il valore di l'un muro virgola un altro messaggio di testo virgola il valore di lato e possiamo dire che ci stanno ci stanno n piastrelle nere e b bianche lasciando lo spazio di spazio da entrambi i lati acquisisco i dati elaboro i dati presenti i risultati input elaborazione output sono le tre fasi principali nella presentazione dei dati in realtà la maggior parte del tempo lo spendo su aspetti estetici mettere la frasetta metterla a capo mettere le cifre decimali giuste eccetera perché in realtà i dati li ho già calcolati però se io mi fermassi col programma alla riga 70 il programma avrebbe calcolato i valori ma ne sa solo lui finché non li faccio vedere l'utente allora vediamo se questa cosa qua funziona io qua ho violato una delle mie regole perché ho scritto 1, 2 più 4, 6 più 3 9 istruzioni senza fare un run è una brutta abitudine scrivere tanto codice senza verificarlo a buona abitudine scrivi poche istruzioni e le verifichi se tutto funziona ne aggiungi delle altre e verifichi le altre eccetera quindi qui 9 sono quasi tante vabbè ci fidiamo è una cosa semplice faccio run e mi dice su un muro di lunghezza 90 con piastrelle di lato 20 oh non fate vedere sta roba ai professori di fisica perché mancano unità di misura qua li picchiano ma ci stanno anche l'italiano forse due piastrelle nere e uno bianche bianca bianca vabbè lasciando lo spazio di 15.0 da entrambi i lati dopo che avete bocciato di fisica l'italiano verifichiamo se questi numeri quadrano quindi abbiamo due piastrelle nere una bianca sono cinque sono tre piastrelle 3 per 20 fa 60 più 15 più 15 60 più 30 90 riempiamo giusto il muro e se dobbiamo fare delle prove con degli altri valori allora ricordiamo che questo innanzitutto questo programma funziona se i dati sono giusti sono ragionevoli sono corretti perché non abbiamo ancora messo il controllo dei dati perché non sappiamo ancora come si fa non dimentichiamolo ma cambiando dati mettendo gli altri corretti che cosa implica implica che io debba andare possa andare a modificare questi valori se non è 90 sono 137 e la piastrella è del lato 19,4 non mi dovrei stupire che mi dice che su un muro di lunghezza 137 con piastrelle di lato 19,4 ci sono 4 nere e 3 bianche e lasciando lo spazio di 0,6 0,85 da entrambi i lati allora qua vedo due piccole stranezze di cui non mi aspettavo che le piastrelle nere 4.0 perché 4.0 non 4 eppure le piastrelle nere sono coppie più coppie me l'ha calcolato io qua pensavo me lo calcolasse come un numero intero me l'ha calcolato come un numero reale perché poi mi stampa 4.0 e 3.0 anziché 4 e 3 questo perché la divisione intera tra numeri reali perché in questo caso il lato l'abbiamo messo frazionario quindi è un numero reale non è un numero intero mi dà un risultato reale pur essendo questo risultato intero cioè privo di parte frazionaria però è rappresentato come numero float sono un po' di distinzioni vedremo poi come fare le conversioni vere da numeri float a int e viceversa poi ci può tornare curiosa questo numerino qua cioè ma davvero mi devo misurare 0,6 centimetri più 7 atomi ma siamo sicuri che quella sia davvero la misura cioè questi 85 miglia miglia miliardesimi contano no 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 perché è un errore di approssimazione e questo avremmo modo di riprenderlo e di digerirlo se riusciamo a digerirlo i calcoli fatti da un computer tranne nel caso in cui siamo solamente lavoriamo solamente con numeri interi ma in generale quando lavoriamo con i numeri reali i calcoli fatti da un computer sono sempre approssimati quindi il risultato vero matematicamente sarebbe 0,6 se vi fate i calcoli con questi numeri a mano viene 0,6 per via di queste sottrazioni divisioni eccetera tra numeri reali il computer ha calcolato qui abbiamo fatto una divisione qua e poi il risultato l'abbiamo rimoltiplicato e poi l'abbiamo ridiviso in questo giro ho aggiunto qualche frazioncina di milione di miliardesimo di errore che alla fine si palesano qua dimmi noi quello che possiamo fare uno è prendere atto che ogni volta non è proprio vero ma ogni volta che c'è un calcolo in virgola mobile il risultato è approssimato quindi non esiste mai il risultato giusto è un risultato vicino quello che noi possiamo fare è decidere di non fare vedere tutte le cifre fa solamente vedere le prime ok queste sono piastrelle quindi più che il millimetro o il decimo di millimetro non si potrà e quindi ti faccio vedere solo una o due cifre decimali le altre non te le faccio vedere uno perché fisicamente non avrebbe neanche senso fartene vedere e due perché non sono cifre affidabili non sono corrette quindi il risultato è questo è il meglio che il computer è riuscito a fare cioè l'approssimazione migliore che è riuscito a fare in fase di output dovremo presentare un risultato che sia leggibile dall'utente e che quindi appunto non obblighi l'utente a ragionare su che cosa vogliono dire queste cifre sappiamo noi quante cifre significative ci sono e nei momenti che lo stampiamo ne stampiamo solo una o due o tre impareremo a farlo chiaramente quindi numeri reali anche su un problema semplice come questo ci riservano sempre qualche sorpresa ecco l'ultima cosa ma che è un lancio rispetto a quello che vedremo meglio la settimana prossima può essere noioso tutte le volte che vuoi fare un esperimento cambiando le lunghezze del muro delle piastrelle dovrai andare a modificare i numeri dentro il programma noi siamo già stati bravi li abbiamo messi li tutti all'inizio non li abbiamo sparsi in mezzo al codice però quello che normalmente si fa è fare in modo che il programma quando parte chieda all'utente questi valori quindi il valore della lunghezza del muro non è scritto dentro il programma ma viene acquisito dal programma appena parte ad esempio lunghezza del muro uguale diciamo così float input muro usando un'istruzione due istruzioni che vedremo meglio la settimana prossima ma essenzialmente input vuol dire leggi un dato e float vuol dire rappresentarlo come numero reale input piastrella e quindi in questo caso il programma parte chiedendo muro io il muro dico che è di 117 la piastrella è di 5,5 e lui mi fa i calcoli dimmi nel caso di numeri negativi possiamo fare rispondare un avvisto sì nel caso di numeri negativi dovremmo anziché fare i calcoli dire i valori corretti i valori inseriti non sono corretti e dovrei a questo punto chiedergli di reinserirli eccetera quindi ci servono però ancora le istruzioni di controllo dell'esecuzione che non sappiamo ancora dimmi che tipo di? allora dipende dal la domanda è all'esame che assunzioni possiamo fare sui dati d'ingresso dipende dal testo in alcuni testi d'esame c'è scritto si assume che i dati sono corretti e invece in alcuni testi d'esame c'è scritto si facciano i controlli perché per capire cioè a volte la difficoltà è anche proprio sui dati a volte la difficoltà del programma è su altre cose quindi vi diciamo non fate i controlli date per buono quindi lo specifichiamo di solito nel testo certo certo se uno anziché scrivere 100 scrive zio in questo caso il programma dà errore io dovrei controllarlo però normalmente cerchiamo di fare in modo che all'esame vi dobbiate concentrare più sull'algoritmo che non sulla validazione dei dati perché sennò veramente si perde un'ora solo a far quello ok allora questo qua ve lo carico poi sul sito e spendo invece come per farvi riposare l'ultima mezz'ora di questa prima lezione a introdurre l'argomento sulle stringhe che poi continueremo nell'ora successiva le stringhe le abbiamo già usate per stampare dei messaggi ma vediamo un attimo sono un tipo di dato e come qualunque tipo di dato in linguaggio di programmazione possono supportano la possibilità di compirci sopra delle operazioni allora innanzitutto cos'è una stringa una stringa è una sequenza di caratteri scritto qua sequenza significa che c'è un ordine il primo il secondo il terzo il quarto quinto elemento di una sequenza di una lunghezza qualsiasi variabile e questa sequenza contiene dei caratteri cos'è un carattere è una singola lettera un singolo numero un singolo segno di punteggiatura eccetera i vari simboli che trovate sulla tastiera ciascuno è un singolo carattere salvo eccezioni che vedremo un pochino più avanti in python si può scrivere una stringa costruire un valore ricordate variabili valori qui parliamo di valori valori di tipo stringa mettendoli tra doppi apici o tra singoli apici quindi per scrivere un numero reale scrivi 3.5 e c'è questa sintassi cifra numerica punto cifra numerica per scrivere una stringa apici e ci scrivi qualcosa in mezzo ci puoi usare gli apici singoli gli apici doppi questo è anche comodo perché se la stringa deve effettivamente contenere essa stessa degli apici la puoi delimitare con gli apici diversi ad esempio questa stringa qua scritta così è una stringa che è delimitata da singoli apici e contiene questi caratteri H E spazio S A I D spazio doppio apice H E L L O doppio apice che è un carattere interno quindi in questo caso il doppio apice è semplicemente un carattere contenuto nella stringa non ne determina all'inizio o alla fine perché l'inizio o alla fine in questo caso è delimitato dai singoli apici però un po' di ordine se apro l'apice singolo chiudo quello singolo se apro l'apice doppio chiudo l'apice doppio per il resto è preferenza personale io come preferenza personale preferisco l'apice semplice perché è più leggero visivamente nella pagina ma cosa posso fare tra valori di tipo stringa? beh posso prendere una stringa mettere una variabile e poi prendere questa variabile e stamparla poca roba ma posso farci anche delle operazioni più furbe? sì beh la operazione più semplice è quella ad esempio di sommare due stringhe cioè concatenarle la concatenazione di due stringhe crea una nuova stringa che contiene tutti i caratteri della prima e poi di fila tutti i caratteri della seconda cioè li aggiunge insieme no? quindi in questo caso dove c'è nome e cognome facciamolo in una finestra qua di tipo REPL in modo interattivo ingrandisco un pochino la parte di sotto quindi se io ho nome che è Fulvio e cognome corno me lo ripasso ogni tanto nome vabbè il nome è questa stringa nome più cognome concatenare insieme le due stringhe chiaro e brutto da vedere se voglio scrivere nome e cognome separati da uno spazio o da una virgola o da qualche cosa dovrò concatenare più pezzi quindi esempio il nome più una stringa che contiene uno spazio più il cognome in questo caso nome spazio cognome attenzione questa stringa strana per chi la vede per la prima volta è aperto virgolette chiuse virgolette ma in mezzo c'è uno spazio lo spazio è un carattere come tutti gli altri al mercato dei caratteri costa come gli altri se ne metto tre ne rimangono tre dentro le virgolette gli spazi contano ed è anche possibile non averne guardate la differenza tra questa stringa aperta spazio chiusa virgolette e questa in cui apro e chiudo le virgolette uno vicino all'altra con niente in mezzo questo non è un errore è lecito è una stringa che contiene una sequenza di caratteri questa sequenza quanti caratteri contiene? zero ma zero è un numero no? una sequenza vuota è pur sempre una sequenza quindi la stringa più corta di tutte esiste è la stringa vuota che si rappresenta aperte virgolette chiuse virgolette con niente in mezzo neanche uno spazio la stringa invece con uno spazio in mezzo è una stringa lunga un carattere potrebbe essere lo spazio io qui ci metto un trattino un qualunque carattere è una stringa di lunghezza 1 quindi le stringhe al di là del loro contenuto sono caratterizzate dalla lunghezza se io voglio chiedere una stringa si ma tu quanti caratteri hai? quanto sei lunga? c'è una funzione che me li calcola e la funzione si chiama len quindi se io calcolo la len del mio nome mi dirà che sono sei caratteri se calcolo la lunghezza della stringa vuota mi dirà che è zero e la lunghezza della stringa che contiene uno spazio è uno così come la lunghezza della stringa che contiene il 5 sono tutte stringhe di un carattere una casella una posizione la stringa vuota nell'aritmetica delle stringhe è come lo zero nell'aritmetica dei numeri no? dei numeri interi è un valore come altri si scrive aperte e chiuse virgolette doppie o aperte e chiuse virgolette pardon singole dove sono andate? ok una nota che però abbiamo già colto per concatenare le stringhe uso il più e mi costruisce la stringa nuova così come per sommare due numeri usavo il più e mi costruirà un numero nuovo quindi lo stesso simbolo in contesti diversi assume significati diversi può assumere significati diversi e Python quindi capirà qual è il significato da adottare in un certo momento sulla base del contesto in cui si trova quindi se ho due interi col simbolo più mi farà l'addizione intera se ho due float due reali col simbolo più mi farà una somma in reale se ho due stringhe mi farà la concatenazione se provo invece a fare operazioni strane tipo sommare una stringa un numero mi dice no guarda questo non è possibile perché non stai né concatenando né sommando perché non sono due stringhe non sono due interi no? quindi per risparmiare sul numero di simboli che si usano a volte lo stesso simbolo ha significati diversi a seconda del tipo dei valori dei dati non è particolarmente preoccupante ma è buono sapersi un'altra operazione inutile ma folcloristica sulle stringhe è la ripetizione se io fossi particolarmente narcisista potrei creare questa stringa qua cioè con l'operatore di moltiplicazione io prendo una stringa e la concateno con se stessa tante volte la moltiplicazione è come è la somma ripetuta no? quindi la concatenazione ripetuta della stessa stringa adesso a parte questo che fa anche un po' pena però lo si può usare come esempio qua no? per scrivere dei separatori quando stampiamo i messaggi eccetera però questo operatore di ripetizione può essere utile se dobbiamo riempire delle tabelle con dei valori iniziali tutti uguali lo si può fare è un po' strano moltiplicare una stringa per un numero ma il significato della moltiplicazione cioè in questo caso si può fare non posso moltiplicare tra di loro due stringhe invece se io facessi nome per cognome mi esce fuori una pernacchia mi dice guarda non puoi moltiplicare una sequenza cioè una stringa che è una sequenza di caratteri per un valore che non è un intero ma è di tipo stringa parla sempre un po' strano questo qua dei messaggi d'errore scrivere cose sembrano più indovinelli che non spiegazioni però dobbiamo imparare a decodificarle perché lui poverino non può sapere cosa avevamo in mente noi di fare lui dice guarda io ho trovato un'incongruenza e ti spiego che cosa ho trovato cerca tu di capire cosa non corrisponde tra quello che pensavi di volermi far fare e ciò che in realtà hai scritto e che io in realtà posso fare e tra numeri e stringhe c'è amicizia nel senso che è possibile convertire sotto certe condizioni una stringa in un numero e un numero in una stringa ad esempio abbiamo detto il lato è 20 lato che cos'è? è un numero intero se io invece scrivessi chiamiamolo lato 2 virgolette 20 virgolette questo lato 2 è sempre 20 ma questi due 20 sono due cose completamente diverse il primo è un numero intero il cui valore aritmetico è 20 il secondo è una stringa di due caratteri il cui primo carattere ha la forma del 2 e il cui secondo carattere ha la forma dello 0 non c'entra nulla col valore numerico 20 se io provo a fare lato 2 più 1 mi dà errore se posso fare lato 2 più lato 2 20 più 20 mi dà 2 0 2 0 perché non è vero che è 20 è 2 0 mentre ovviamente se faccio lato più lato mi dà 40 sono due bestie diverse che si comportano secondo regole diverse ok però riconosciamo che nella stringa 2 0 quella stringa è codificata in modo anche da essere letta come numero allora esiste una funzione che si chiama int che se applicata una stringa mi dà il valore numerico corrispondente quindi vedete che lato 2 me l'ha stampato con gli apici per farmi ricordare guarda questa è una stringa ma se applico la funzione int a questa stringa mi restituisce il valore intero codificato dentro quella stringa andando a interpretarla con le regole normali di lettura dei numeri così come se io dicessi float di lato 2 legge quella stringa che contiene un 2 1 0 me lo converte in un numero reale che è 20.0 quindi le funzioni int e le funzioni float prendono una stringa in realtà prendono un dato di qualunque tipo e cercano di convertirlo sotto forma intera sotto forma reale se si può ovviamente quindi ad esempio se io facessi int di 3,5 mi direbbe no perché il numero intero dice guarda nei numeri interi in base a 10 qui dentro c'è un carattere che non vale il punto non vale quella stringa non rappresenta il numero intero e quindi ti do errore se tu dici che vuoi stare al numero intero mentre invece se la 3,5 lo volessi convertire in numero reale tranquillo poi ci sono altre cose più carine nel senso che io faccio int di 3,5 scritto non ho messo le virgolette è un numero reale e quindi lui dice io ho un numero reale vuoi che tu converta l'intero va bene però butto via i decimali ci sono regole diverse chiaramente a seconda dei casi quindi se io parto da una stringa che contenga una rappresentazione corretta per un numero reale lo posso trasformare in reale se contiene una rappresentazione corretta per un numero intero lo posso trasformare in intero e poi da quel momento in avanti lo salvo in una variabile che conterrà un valore intero e ci faccio l'aritmetica intera ecco se invece voglio passare da valori interi a valori reali lo posso fare tra numeri e numeri quindi senza le stringhe posso fare float di 7 mi da 7.0 quindi noi abbiamo visto che gli operatori ilmetici somma sottrazione eccetera fanno già delle conversioni di suo se noi vogliamo applicare delle arrotondamenti o delle conversioni nostre lo possiamo fare usando queste funzioncine interflop che lavorano sia se lo argomento un numero sia se lo argomento una stringa e poi ovviamente c'è il meccanismo inverso cioè prendo un numero e lo converto in stringa quindi ho il 3.5 ovviamente scusate devo essere un numero perché la stringa nome di prima se provo a convertire sia in intero che in float che in quello che voglio non funziona non posso convertire in inter non posso convertire in float se è sballato quindi queste conversioni funzionano se il dato di partenza è corretto è compatibile poi c'è l'operazione inversa che è la funzione che è che invece dato un numero costruisce una stringa quindi io posso fare str di 7.5 e mi costruisce la stringa composta da tre caratteri il 7 il punto e il 5 mi può essere utile in alcuni casi quando voglio stampare delle cose incolonnate quindi ho bisogno che il numero di carattere sia giusto quindi aggiungo davanti e dietro per incolonnare eccetera mi serve lavorare come stringa non come numero la conversione da numero intero reale a stringa si può sempre fare ovviamente mi dà una stringa che se io la stampassi subito darebbe lo stesso se io faccio print di 7.5 e print della stringa che ottengo convertendo 7.5 l'utente finale vede sempre la stessa cosa quando faccio print sto mostrando un valore all'utente l'utente vede la stessa cosa in realtà se ce lo diciamo tra di noi la print lavora solo con string sullo schermo vanno finiti caratteri non vanno finiti numeri quando io faccio 3 più 2 e vedo 5 quel 5 è un carattere disegnato sullo schermo che python ha disegnato in quel modo andando a capire la codifica binaria del numero 5 che è una cosa completamente diversa che non ci fa vedere perché ci vuole bene ok quindi tutte le operazioni di input output avvengono sempre attraverso caratteri o stringhe quindi tutte le volte che io faccio una stampa di qualche cosa sto esplicitamente o implicitamente convertendo dei valori in stringhe che è l'unica cosa che può essere stampata tutte le volte che leggo qualche cosa dalla tastiera con la funzione input che vi ho accennato prima o da file quando le vedremo leggerò sempre delle stringhe di testo che poi potrò convertire nei dati corretti se queste stringhe sono fatte bene quindi normalmente il programma lavora anche con dati numerici ma tutte le volte che deve leggere input o stampare print sono stringhe siamo nel mondo delle stringhe vabbè queste sono le cose che abbiamo detto questa è una parolina che vi butto lì capiremo l'importanza più avanti le stringhe sono immutabili cosa vuol dire che una stringhe è immutabile vuol dire che il valore un valore di tipo stringa non può essere cambiato cioè se io scrivo che a uguale x y z a questa stringa poi posso fare a uguale abc e ovviamente a viene cambiata allora che cosa scusate cosa ha appena detto la slide che non posso cambiare un valore di stringa qui l'ho appena cambiato no sta dicendo una cosa diversa qui ho creato due stringhe la stringhe x y z che nel momento in cui l'ho creata esiste ricordate la figurina variabili valori ce l'avete appena in cameretta in bagno variabili valori ho creato il valore x y z quel valore l'ho assegnato alla variabile a poi dopo ho creato un altro valore abc e ho deciso di assegnarlo alla variabile a quindi ho modificato la variabile che adesso punta a una stringa diversa la stringa di prima rimane immutata e dici vabbè chi se frega tanto non la può più usare nessuno è vero facciamo un'altra cosa a uguale a più asterisco e cosa mi dà? mi dà abc asterisco questo più ovviamente la concatenazione ho concatenato la stringa il valore della stringa attualmente puntato da che era abc con una stringa che ho appena creato nello spazio dei valori asterisco ma qui a questo punto io ho tre stringhe nel mondo dei valori la stringa xyz la stringa abc e queste due sono perse per sempre nel senso che non ha più nessuna variabile che le chiama e la stringa abc asterisco cioè tutte le volte che creo un nuovo valore partendo da stringhe esistenti sto costruendo nuove stringhe andando a ricopiarci dentro i pezzi delle stringhe vecchie nello spazio dei valori uno dice ma sarebbe tanto comodo quella lì abc ce l'hai già aggiungi un asterisco modifica quella lì e in tanti linguaggi di programmazione si può fare e con altre strutture dati si può fare sulle liste si può fare ad esempio le stringhe invece funzionano in modo diverso non c'è nessun modo per modificare una stringa una volta che è stata creata posso ovviamente creare delle nuove che vanno a prendere i valori di quella vecchia e la modificano ma è usata sempre una nuova è filosofia? no a questo punto forse un po' ma poi più avanti questa distinzione ci servirà tipicamente se io facessi operazioni di tipo B uguale ad A cioè o la stringa A a B C asterisco o la stringa B a B C asterisco sono due variabili diverse che in questo momento fanno riferimento allo stesso valore se io poi ci voglio aggiungere un altro asterisco ad A ovviamente A avrà due asterisco in fondo ma B è rimasta con uno che è la cosa forse intuitiva l'abbiamo già visto l'oltre scorsa se io modifico il valore di X X uguale a X più 1 aveva modificato il valore della base l'area non era cambiata ma per chi glielo fa farli cambiare ok ecco la stessa cosa vale sulle stringhe io non ho aggiunto un asterisco a questa stringa qua che era condivisa tra A e B ma ne ho creato un'altra che è un asterisco in più quindi eventuali il problema qual è? che posso avere tante variabili diverse che condividono lo stesso valore e quindi diventa importante in questi casi sapere se sto modificando un valore esistente quindi anche le altre variabili vedranno il valore modificato perché fa un riferimento al stesso valore oppure se sto creando un valore nuovo nel caso delle stringhe così come dei numeri sono tipi di dati immutabili quindi non ci poniamo in problema ve lo metto qua perché poi quando parleremo delle liste invece funziona in modo completamente diverso all'opposto e quindi lì dovremo poi andare a vedere dimmi le stringhe inutilizzate occupano memoria che prima o poi il python recupera peraltro quindi non va a sprecare cioè è memoria che non viene lasciata lì per sempre c'è un meccanismo che si chiama di raccolta della spazzatura che in italiano sembra che faccia ridere ma in inglese garbage collection è una parola figa che di tanto in tanto va a vedere quali sono i valori ma anche i numeri non solo stringhe che abbiamo usato non ci servono più e libera la memoria quindi questo avviene in automatico su linguaggi dinamici come python ecco l'altra operazione elementare l'ultima che vediamo adesso prima dell'intervallo l'operazione elementare che possiamo fare sulle stringhe è estrarre un pezzo della stringa una stringa abbiamo detto che è una sequenza prendiamo la stringa nome è una sequenza di sei caratteri abbiamo detto questi sei caratteri sono numerati da zero a cinque gli informatici contano partendo da zero sempre ok se vedo contare le persone che sono sedute qua zero, uno, due, tre, quattro se vedete uno che comincia a contare partendo da uno toglieteli l'amicizia ok quindi se ho sei elementi questi sei elementi sono numerati dallo zero al cinque e se mi interessa il primo elemento il primo elemento sarà il nome di zero uso le parentesi quadre per indicizzare un singolo elemento all'interno di una stringa che cos'è un singolo elemento all'interno di una stringa? è stessa una stringa ma di lunghezza 1 posso vedere il terzo carattere beh il terzo carattere è quello che ha indice 2 ok 2 è il terzo numero non pensate che sia il secondo è il terzo in questo caso è la L minuscola e l'ultimo vabbè l'ultimo carattere se il nome ha lunghezza 6 sarà il nome di 5 che è la O ma più in generale l'ultimo carattere sarà l'elemento il cui indice è pari alla lunghezza meno 1 nome a lunghezza 6 l'ultimo carattere è quello numerato con la posizione 5 quindi lunghezza meno 1 quindi gli indici di una stringa vanno sempre da 0 alla lunghezza della stringa meno 1 se provassi a fare nome di 6 o nome di length di nome cioè su una stringa lunga 6 chiedo il carattere di indice 6 che è il settimo mi dice che non c'è ok mi dice che non esiste quindi gli indici validi valgono sempre da 0 fino alla lunghezza meno 1 della stringa questo non lo decidiamo noi è fisso qualunque stringa viene rappresentata in questo modo compresa la stringa vuota che ovviamente avendo lunghezza 0 non posso estrarre nessun carattere perché se applicassimo la regola l'indice valido andrebbe da 0 a meno 1 cioè vuol dire insieme a vuoto non ce n'è nessun indice valido le stringhe di un carattere che è la lunghezza 1 hanno l'indice che può variare da 0 a 0 quindi 0 va bene gli altri numeri no quindi questo è il modo per andare le stringhe sono un tipo di dati abbiamo detto una sequenza quindi un tipo di dato che contiene a sua volta altri dati posso lavorare complessivamente con la stringa con catenare moltiplicare queste cosette che abbiamo visto oppure lavorare singolarmente sui singoli dati caratteri che sono messi dentro la stringa per poter lavorare singolarmente li devo andare a estrarre estrarre un singolo carattere o estrarre una sotto sequenza una porzione di stringa ma non vi voglio caricare troppo perché è ora di fare un po' di intervallo siamo un quarto d'ora di pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti